Ciao ragazzi, volete venire insieme a noi alla scoperta di alcune storie sul castello di Pietrarossa? Dai, allora cominciamo. Oggi vi raccontiamo l'incontro dei quattro baroni. Il castello di Pietrarossa è stato teatro di importanti episodi bellici, come la guerra dei vespre siciliani. Nel 1377, infatti, all'interno del castello di Pietrarossa si riunirono ancora una volta in convegno tutti i baroni dell'isola per istituire il governo dei quattro vicari, composto dalle potenti famiglie Aragona, Chiaramonte, Peralta e Ventimiglia. Il loro compito era di detenere momentaneamente il potere in nome della giovanissima Maria, figlia quindicenne, orfana di Federico IV di Aragona e futura regina di Sicilia.